Salve a tutti, questo secondo me è uno dei video più interessanti che ho portato sul mio canale perché in questo video cercherò di trattare che cos'è Orgmod e in particolare cercherò di far capire perché secondo me Orgmod è una di quelle poche tecnologie che ha la vera potenzialità di cambiare il modo in cui uno guarda il software il modo in cui uno pensa al software, alle potenzialità del software quindi dato che Orgmod nasce dentro Emacs, poi vedremo come sono collegati però è una cosa talmente grande e talmente anche al di fuori di Emacs che ho voluto fare una serie a parte per Orgmod che inizierà con questo video poi vedremo anche degli usi più specifici, ovviamente la serie su Emacs continuerà andando a trattare altre funzioni di Emacs ma per adesso concentriamoci su Orgmod in questo video in particolare vedremo che cos'è Orgmod, i vari modi in cui possiamo pensare ad Orgmod un po' di storia per capire chi l'ha scritto, da dove proviene, come si è evoluto nel tempo qualche use case generale che sono i problemi per cui Orgmod era stato ideato originalmente ma farò anche vedere qualche use case personale che sono i modi in cui io al giorno d'oggi utilizzo Orgmod per risolvere i miei problemi e questo secondo me farà vedere che Orgmod è un tool estremamente potente e flessibile che si adatta ai problemi dell'individuo ognuno di noi ha dei problemi nell'utilizzo del computer e Orgmod è un tool che si adatta a questi problemi noi lo possiamo utilizzare per risolvere i nostri problemi farò vedere qualche elemento base del linguaggio di Orgmod come scrivere file di Org e qualche riferimento finale quindi iniziamo che cos'è Orgmod? Orgmod può essere visto da due punti di vista diversi il primo è come markup language pensiamo HTML il secondo è come major mode in IMAX che significa questo? significa che i file che noi scriviamo in Orgmod i file .org sono dei plain text files cioè sono dei file di testo che possono essere aperti con qualsiasi text editor e questo il fatto che io possa aprire un file Org con qualsiasi text editor senza avere problemi perché è solamente un file di testo è un aspetto fondamentale ed è importantissimo un aspetto critico della potenza e flessibilità di Orgmod detto questo ovviamente se noi stiamo dentro IMAX c'è una modalità appunto Orgmod che ci permette di editare ci permette di visualizzare in modo dinamico il contenuto di questi file come possiamo vedere qui non ci sono tutti questi colori non ci sono tutte queste non c'è la dinamicità che ci offre IMAX che poi vedremo nel corso del video quindi utilizzando IMAX abbiamo delle facility in più per editare i file di Orgmod ma Orgmod è anche una markup language è un modo per scrivere dei file di testo ora per cercare di spiegare per dare ovviamente una dimostrazione di quello che intendo apriamo la nostra macchina virtuale con IMAX questo è un file Org chiamato test.org ora che cosa posso fare con questo file Org? ad esempio io ho queste headline che sono ottenute premendo questi asterischi ogni volta che apriamo un asterisco metto una nuova headline e il livello della headline queste headline sono a livello e il livello dipende dal numero di asterischi quindi le headline di livello 1 contengono tutte le headline di livello 2 quindi questa è un headline di livello 2 e via dicendo ora in che senso ho processati in modo dinamico tramite IMAX questo processamento dinamico significa che ad esempio se io sto su questa headline e premo tab lui mi chiude tutto il contenuto di questa headline così che io posso visualizzare il resto del file e in questi screen si vede molto bene che questo plain text file non dà la struttura del contenuto perché ovviamente è pieno delle informazioni iniziali d'altra parte però in org mode io posso dire ok dammi tutti i nomi dell'headline e questo mi permette di diciamo capire quali sono stati gli argomenti trattati i vari diciamo sotto argomenti e via dicendo quindi mi permette di capire al volo la struttura del documento ed è un tool estremamente potente quindi se io voglio scrivere un no headline premo asterisco e faccio headline 2 e qui posso scrivere altre cose poi posso fare headline 3 una volta che io voglio diciamo nascondere il contenuto di headline 2 premo tab se poi voglio rimostrarlo ripremo tab e quindi questa è l'idea di processare in modo dinamico ma detto questo come abbiamo già detto i file org mode non è che devono necessariamente essere aperti tramite i max ad esempio ci sono delle librerie come org parse è una libreria scritta in python che io personalmente utilizzo per generarmi gli indici per tutte le lezioni diciamo dei miei appunti che poi farò vedere quindi questo per esempio è un codice che lui prende utilizza delle funzioni tipo get adding è una funzione python che ha implementato questa libreria org parse e utilizza la struttura interna del file org per parsare il documento quindi questo che vuol dire? vuol dire che io ora questo file org l'ho aperto con imax ma io posso aprire una shell magari chiudo imax apro nano faccio prova.org in nano che è un altro text editor e mi sembra si... no si chiama test.org in nano e lui mi dà la stessa struttura del file ovviamente qui non lo posso più processare in modo dinamico se io faccio qua tab sull'asterisco lui mi mette il tab il carattere tab che non è quello che voglio ma io magari posso mettere per esempio tre asterischi qui headline 3 ci metto del testo prova 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 e poi lo salvo ora questo è un file di testo quindi se io lo apro con imax adesso io avrò questa terza headline infatti se io vado su headline 1 poi vado su headline 2 e mi trovo la headline 3 e quindi posso processare in modo dinamico questa è una delle cose più potenti di imax il fatto che con imax io posso scrivere editare i file.org in modo estremamente efficiente e ho tutta una serie di ovviamente funzionalità extra che lo rendono unico per editare i file.org quindi diciamo editare i file.org senza imax uno è molto limitato ma allo stesso tempo con qualsiasi altro file.org o con dei miei programmi scritti in python quindi io posso interfacciarmi con i file.org in qualsiasi modo io voglia posso comunque leggere e scrivere i file.org e questo è super super potente ora la particolare sintassi utilizzata tipo ad esempio il fatto che gli heading si fanno con gli asterischi il fatto che ci sono le liste i link e via dicendo dà luogo a quella che viene chiamata org mode markup language e rappresenta appunto la parte più importante di org mode perché al di fuori di imax io con questa questo è un linguaggio che è scorrelato con imax qui c'è un link poi me lo metterò in descrizione di un blog che ha vari articoli su org ma non sono tutti in inglese purtroppo e fa diciamo vedere un pochino le parti principali di questo linguaggio che vedremo alla fine ma come possiamo vedere per esempio l'asterisco crea l'heading poi se noi mettiamo due asterischi e una parola questa sarà in grassetto se mettiamo questi diciamo questi caratteri qui sarà italic underline strike true eccetera eccetera qui ad esempio sono i link quindi noi mettiamo la graffa qui mettiamo il link e qui mettiamo la diciamo descrizione del link ma poi vedremo tutto questo alla fine del video quindi per ricapitolare che cos'è Orgmod Orgmod è sia un markup language che sarebbe diciamo questo qui è sia questo tipo di linguaggio con questi particolari modi di definire le cose ed è sia una major mode in imax che ci permette di editare in modo veloce in modo efficiente diciamo file scritti in questo modo ora però prima di procedere un po' di storia perché secondo me è sempre utile sapere da dove proviene un software chi l'ha scritto perché via dicendo bene Orgmod nasce nel 2003 da Karsten Dominic Karsten è un astronomo e c'è un blog metto il link in descrizione persona molto interessante solo per il fatto che ha inventato Orgmod chiaramente dalle parole di Dominic Orgmod was born in 2003 lui essenzialmente sta dicendo che Orgmod è nato dalla frustrazione di utilizzare una modalità di imax chiamata outline mode che doveva permettere questa diciamo strutturazione in outline di un documento testuale c'era questa outline mode ma appunto Dominic scrive che era molto noiosa da utilizzare c'erano troppi keybind erano poco intuitivi quindi non gli piaceva e quindi lui che si è fatto si è scritto questo Orgmod e tipo ad esempio inizialmente aveva scritto come una specie di add-on alla outline mode già esistente ma poi praticamente era cresciuto talmente tanto che è diventato un pacchetto esterno Org.l con un sacco di file e via dicendo e appunto come scrive lui i task principali sono plain text mode with innovative intuitive editing features quindi con un modo molto molto intuitivo di poter editare questi file e con diciamo con l'abilità di incorporare all'interno di questi file gli utilities per fare project planning cioè per pianificare progetti appuntamenti liste cose da fare e tutti quindi diciamo organizzazione appunto Org per tutte le cose che hanno a che fare con l'organizzazione con gli appunti eccetera Orgmod doveva riuscire a gestirli nel modo più intuitivo possibile ora quindi inizialmente era un pacchetto esterno come ci sono tanti pacchetti di Emacs poi si è visto che era talmente potente che è stato deciso di incorporarlo all'interno di Emacs come major mod questo a partire dal 2006 Bust & Quarry ho letto il current maintainer cioè la persona che gestisce attualmente il progetto Orgmod e quindi questo diciamo conclude un po' questa breve storia di Orgmod che nasce inizialmente come un pacchetto come nascono tanti pacchetti poi diventa talmente grande talmente grande talmente grande che diventa una major mod e adesso è enorme adesso è veramente una cosa mostruosa ed è potentissimo quindi adesso andiamo a descrivere qualche use case generale per capire ok Orgmod sembra interessante ma che ci posso fare essenzialmente? quindi andiamo adesso a vedere qualche use case generale di Orgmod questi sono use case che appunto più o meno sono validi per tutti sono estremamente potenti quindi in qualsiasi modo uno utilizza Orgmod alla fine avrà a che fare con questi task con questi use case quindi Orgmod può essere principalmente utilizzato per document outlining cioè più o meno in modo approssimato possiamo dire significa dare una struttura ad un testo cambiare la struttura del testo in modo veloce efficiente dinamico e via dicendo personal information management cioè tutto quello che ha a che fare con la gestione delle informazioni personali tipo contatti rubriche appunti cose del genere l'iterate programming che è una particolare pratica di programmazione che poi ne discuteremo publishing exporting tool cioè i file Orgmod possono essere esportati in altri formati per poi magari pubblicare un blog una presentazione come vedremo e via dicendo ma ripeto che questo è solo l'inizio questi solamente i diciamo pezzi dell'ego principali che poi però possono essere combinati tra loro nei modi più svariati a seconda ovviamente dell'utente anche della creatività dell'utente e quindi è importante capire che questi sono solamente le basi sono solamente le parti diciamo che poi possono essere applicate ai vari use case personali quindi iniziamo con document outlining allora tramite le headlines cioè quelle che abbiamo visto quelle che permettono di dare questa struttura diciamo gerarchica al testo queste headline headline 1 headline 2 headline 3 tramite queste headlines siamo in grado di strutturare un testo di qualsiasi natura perché appunto io posso avere che ne so posso avere un'introduzione qui metto introduzione scrivo male introduzione poi posso fare capitolo 1 poi posso fare sub chapter 1.2 e via dicendo capitolo 2 e io posso magari editare il capitolo 2 poi mi muovo al sub chapter e posso subito magari andare all'introduzione e poi dico ok devo editare subito il sub chapter e via dicendo quindi questo ci permette di fare visualizzare in modo dinamico la parte del testo a cui siamo interessati appunto se io sono solo interessato al capitolo 2 magari il capitolo 1 è enorme sono un sacco di parole quindi che ne so io magari questo lo potrebbe veramente tanto tanto diciamo grande tipo un sacco un sacco di parole e al posto di dovermi sorbire tutte queste parole prima di arrivare al capitolo 2 io semplicemente lo nascondo e vado sul capitolo 2 e premo tab quindi il tab è utilizzato per aprire e chiudere queste headline e poi un'altra cosa super super figa è modificare in modo dinamico la struttura delle varie headlines ora che significa con questa cosa significa che se io sto per esempio nel capitolo 2 io posso premere alt adesso sto tenendo premuto alt premo le freccette e posso spostare questa headline rispetto alle altre per esempio se io premo la freccetta in su sposterò questa headline con quella di sopra infatti adesso capitolo 1 sta giù e capitolo 2 sta su se lo rifaccio di nuovo lo sposto con l'introduzione poi magari posso fare questo quindi posso spostare questo tipo di headline oppure se io premo alt e premo la freccetta a destra posso creare un diciamo al posto di avere una headline di livello 1 posso avere una headline di livello 2 e quindi posso fare questo tipo di movimenti dinamici che mi permettono di cambiare in modo dinamico la struttura del testo perché perché tutto il contenuto che stava in capitolo 1 quando io sposto capitolo 1 si sposta anche esso adesso qui c'è solamente quello che c'era nel capitolo 2 e quello che c'era nel capitolo 1 sta ancora sotto il capitolo 1 quindi mi permette di vedere un documento come un insieme di blocchi testuali e mi permette di giocare con questi blocchi proprio come se fossero dei lego mantenendo comunque questa struttura gerarchica in cui io inizio dall'headline di livello 1 poi ho tutte quelle sotto e via dicendo e qui faccio vedere un piccolo esempio di questo utilizzo questa è una lezione mia di un corso in cui faccio vedere che nascondo apro e nascondo le varie headlines e poi le esposto questo è per far capire che quando uno ha a che fare per esempio con gli appunti di una lezione che sono tanti gli argomenti però ciascuno magari è il proprio argomento e sono strutturati tra loro nella spiegazione della parte del professore avere questa abilità di chiudere di andare a porre attenzione solamente alla porzione del testo a cui siamo interessati in quel momento è super potente anche come strumento di studio e quindi questo chiude l'idea del documental planning quindi il documental planning per ripassare velocemente ci permette di strutturare un testo e l'abilità che ci dà è molto molto potente quindi continuando nel campo del personal information management allora la semplicità e la flessibilità di org mode ci permettono anche di gestire i to-dos intesi come appuntamenti quindi cose che dobbiamo fare per esempio devo uscire devo andare al lavoro devo fare quel particolare task o appuntamenti magari che ne so con amici con parenti per lavoro e via dicendo me li posso segnare utilizzando quella che viene chiamata org agenda poi vedremo contatti le informazioni relative ai contatti numeri telefono vie cose comunque che devo ricordare relative a persone appunti per progetti ma in realtà appunti in generale infatti org mode è estremamente flessibile per tutti quei task che necessitano di prendere degli appunti cioè ogni volta che dobbiamo scrivere degli appunti possiamo utilizzare org mode e questo è estremamente potente e infine c'è un altro campo che io ancora in realtà devo esplorare per bene che sono le basi di conoscenza cioè la creazione di basi di conoscenza personali ci sono vari pacchetti che fanno questo tipo org brain e org room ma qui li ho solamente voluti menzionare perché attualmente diciamo io sto più esplorando le basi di org mode e queste diciamo applicazioni tipo a basi di conoscenza sono molto molto astratte molto complesse e ancora mi ci devo mettere forse un giorno sicuramente le esplorerò per bene magari ci farò qualche video a riguardo per adesso però sto parlando delle basi quindi teniamoci alle basi ora che cos'è org agenda org agenda ci permette di accumulare una serie di appuntamenti e ci permette di vedere questi appuntamenti sotto forma di agenda quindi giorno x devo fare x y z quindi come funziona inizialmente dobbiamo settare i file da cui org agenda andrà a prendere i nostri appuntamenti e per fare questo io posso prendere questo codice e lo posso eseguire sul mio file di emax ora io qui l'ho già eseguito qual è che cosa fa questo codice questo codice esegue la funzione set queue quindi setta il valore della variabile org agenda files al valore di questa espressione di questa list expression che è una lista di due valori che è uno è un file path al file agenda.org situato nella home dell'user e l'altro è l'work.org sempre situato nella home dell'user in realtà mi serve solo agenda.org quindi come lo faccio utilizzare io lo scrivo qui faccio evil buffer quindi alt x evil buffer lui mi esegue adesso io avrò un file agenda.org nella mia home directory home.leo della mia macchina virtuale se io apro questo file agenda.org ho in questo file dei metadati inizialmente tipo il titolo il nome questi sono magari utili per le esportazioni poi vedremo e quindi dicono che cos'è questo questo è il file dell'agenda in cui mi siano le cose per esempio una headline università se io clicco ho un to do che sarebbe una headline a cui ho aggiunto la parola to do e imax la rende rossa la colora di rossa poi uno può modificare il colore ovviamente ma per dire che quella parola poi viene processata in modo dinamico da altre componenti di org mode tra cui org agenda quindi per esempio io che ho studiare IR che è una materia information retrieval studiare un capitolo libro questo è un esempio chiaramente quindi quello che sto facendo qui quindi una volta che ho messo ho eseguito questo codice ho settato org agenda e gli ho detto guarda i file da cui prendere le cose sono questi io poi posso editare questi file posso aggiungere dei to do delle cose da fare per esempio università o amici e che strutturano appunto sono delle headline normale quindi semplici asterischi a cui però ho aggiunto la parola to do per dire guarda questa è un'attività che devo fare e poi ad esempio uno può aggiungere informazioni extra tipo ma questa attività ha un tempo limite o comunque la devo fare entro un giorno c'è una deadline o semplicemente è schedulata per qualche giorno particolare e questo lo posso fare posso settare la data e qua c'è la data per esempio del 21.06.11 quindi dell'11 giugno che sarà un venerdì e poi magari ci posso mettere la data cioè l'ora nel senso io devo uscire con gli amici alle 7 e quindi ci metto pure la data ora la cosa figa è che una volta che io ho segnato queste cose sui file e questo lo posso fare in vari modi perché ripeto non è che devo per forza utilizzare imax io posso pure avere un python script che mi scrive queste cose su un file org mode e poi però la cosa figa è che una volta che so su imax se io poi eseguo il comando org agenda lui mi apre questo mini diciamo buffer in cui c'è scritto preschi for an agenda command cioè dici che comando vuoi eseguire con org agenda e ad esempio se io premo a che è il più semplice mi dà l'agenda for current week or day cioè mi dà una visione di tutti i miei to do's rispetto alla settimana o rispetto al giorno e se io premo a lui mi dà questo tipo di visione quindi io vabbè il buffer di prima agenda.org che c'è il file con i miei appunti e poi però apre un buffer particolare infatti è un buffer speciale quello che ho descritto nel video precedente di imax in cui ho i vari giorni della settimana e per esempio per giovedì 10 10 giugno ho alle 7 una schedulata un'uscita che poi qui ci posso mettere varie informazioni oppure di venerdì alle 11 ho schedulato di studiare un capitolo del libro e quindi io semplicemente vedendo la strazione dell'org agenda posso capire cosa devo fare quale giorno senza dovermi andare nei file e via dicendo quindi dal vivo come faccio io ho questo file poi premo alt x e scrivo org agenda lui mi apre questo buffer io qui posso fare vari comandi ma il più semplice è A che scrive agenda for current week or day premo A e lui mi apre questa visione questa visione è un buffer ideato da imax da org in particolare infatti sto dentro org agenda che come lo fa a creare lui va a leggere i file si mette tutte queste informazioni e le dispone le mostra in questo modo particolare quindi questo è super utile quando dobbiamo organizzarci e dice ok ma che devo fare oggi che devo fare tra una settimana che devo fare domani e via dicendo dopodiché continuando contacts ciascuna headline può contenere vari attributi che possono essere utilizzati in questo caso io faccio vedere degli attributi tipo name phone email birthday quindi io sto pensando magari di salvarmi dei contatti in un file org mode avrò una outline scritto contatti dentro c'ha magari perché voglio dividere i contatti in amici magari contatti per lavoro contatti di università e via dicendo e dentro magari l'headline amici metto altre entry queste sono le persone proprie cioè i miei amici effettivamente che hanno varie proprietà tra cui un nome si spera un cellulare un email un compleanno si spera pure dovranno essere nati quindi varie informazioni del genere che poi però io queste me le potrò processare con altre funzioni sempre di ELISP che sono sempre state implementate nel pacchetto org mode ma che non vedremo e quindi posso aggiungere dei metadati in un certo senso a queste entry e quindi questo più o meno può essere utilizzato per dei contatti poi magari ci sono anche dei pacchetti specifici questi mondi poi metterò dei riferimenti alla fine sono infiniti quindi appunto come utilizziamo le properties bene non c'è proprio un modo specifico per utilizzare le properties le properties possono essere utilizzate in una valanga di modi diversi e a seconda delle nostre preferenze possiamo scegliere ok le voglio utilizzare in questo modo o le voglio utilizzare in quest'altro modo quindi org mode ci offre i componenti di base ma siamo noi poi che li dobbiamo combinare li dobbiamo utilizzare nel nostro modo nel modo che vogliamo quindi continuando knowledge bases per quanto riguarda le knowledge bases non dirò molto proprio perché ancora io devo approfondire questi argomenti però ho messo dei link su questa presentazione che metterò il link in descrizione questi link portano due pacchetti org rom e org brain ce ne sono tantissimi altri in realtà ora per knowledge base si intende le basi di conoscenza personali cioè dei modi per organizzare la propria conoscenza e appunto org mode ha vari pacchetti tra cui questi però sono argomenti che ancora devo approfondire bene quindi l'ho solo voluto dimensionare perché penso che sia un utilizzo molto interessante di org mode però appunto non so molto a riguardo continuando troviamo l'iterate programming che cos'è l'iterate programming che si intende per l'iterate programming bene l'idea è che tramite la componente org bubble di org mode siamo in grado di oltre ad avere del testo quindi oltre a permetterci di scrivere dei testi molto complicati se poi nel testo necessitiamo di avere la presenza di qualche blocco di codice in vari linguaggi di programmazione tramite org bubble siamo in grado di inserire il codice tra il testo quindi c'è un paragrafo poi il codice poi un altro paragrafo magari e siamo anche in grado di eseguirlo quindi in modo dinamico siamo in grado di eseguire dei snippet di codice dei pezzettini di codice in vari linguaggi di programmazione tipo in questo caso io ho questo file file org e all'interno ho questo codice lisp che mi esegue la somma tra 2 più 2 e se io premo ctrl c ctrl c lui mi fa lo vuoi valutare questo blocco io premo sì e lui mi da 4 se poi io metto qui 5 fa 2 più 5 io salvo premo ctrl c ctrl c e lui mi da premo yes e lui mi da 7 appunto e quindi io qua poi magari continuo a scrivere poi qua metto un altro blocco qua magari metto message hello e quindi faccio ctrl c premo yes e lui mi stampa hello quindi io posso intervallare diciamo codice ha del testo quindi va ho testo codice altro test e via dicendo ora sono vari linguaggi supportati da orgbubble qui non entrerò in dettaglio ma è giusto per dare la diciamo consapevolezza che questo si può fare ora la vera potenzialità di questa cosa ovviamente è che io posso sono vari linguaggi supportati da orgbubble e quindi posso avere magari nello stesso file uno snippet di codice in c un altro snippet in python un altro snippet in elisp un altro snippet in un altro linguaggio e via dicendo e questo è super super potente come ultimo use case generale per far vedere un po' le potenzialità di orgmodo volto portare questa sezione sull'exporting perché perché i file orgmodo una volta che ho scritto con questo linguaggio di org punto org posso esportare il file all'interno di emax posso esportare questo file in altri formati tra i più famosi troviamo html latex markdown icalendar plaintext per fare questo come facciamo noi stiamo in un file punto org e noi facciamo ctrl c ctrl e e lui ci apre questo diciamo ci apre un pannello questo pannello di exporting lui ci dice se lo vuoi esportare come icalendar premi c se lo vuoi esportare come html premi h poi magari uno può dire ok ma come html buffer o in un file o come latex in un file come pdf come .tech cioè come formato proprio latex punto tech e via dicendo insomma sono vari i formati in cui lo possiamo esportare e il comando per fare questo e org exportispatch nuovamente farò un video dedicato all'esportazione quindi appunto questo è il mio imax nel mio file di configurazione e come possiamo vedere qui ho per esempio exporttugo questa è l'esportazione che faccio per gestire il mio blog che poi menzionerò oppure exporttorevial.js è l'esportazione che ho utilizzato per generare questa presentazione oppure exporttoycalendar tulate che via dicendo per esempio questo è un file org qui possiamo vedere diciamo il titolo le varie informazioni riguardanti il nostro il nostro file e diciamo questo invece è il file html che mi genera che è stato generato a partire da quel file questa stessa presentazione questa che sono mostrando in questo momento è stata generata a partire da un file org perché io che cosa ho? ho qui il file questo è il file org e se io poi faccio qui se io poi faccio ctrl ctrl e poi faccio r maiuscolo b maiuscolo lui mi apre la presentazione quindi se ho qui il titolo tipo prova ho cambiato il titolo faccio ctrl c ctrl e r maiuscolo b maiuscolo e lui mi ha cambiato il titolo ovviamente e mi ha messo questo titolo quindi io qua posso utilizzare tutti i keybinds di max con ovviamente delle sintasi tipo questo è un blocco di codice qua sto utilizzando la funzione org babel che però poi viene integrata con l'exporting per permettermi di esportare e di avere questo diciamo pezzo di codice con la syntax highlighting di python cioè questo i colori sono relativi a python e questo lo faccio un'integrazione di org babel e org exporting e questo è fatto tutto out of the box cioè io non ho dovuto implementare nulla per avere questo tipo di risultato ed è estremamente potente proprio per questa flessibilità come ho detto quindi a parte queste cose ok quindi stiamo dicendo use case generali quindi l'exporting abbiamo visto e quindi questo conclude per quanto riguarda gli use case generali ora andiamo a vedere un po' di use case personali cioè di modi in cui io personalmente utilizzo org mode allora io lo utilizzo per varie per tantissime cose quindi ho voluto menzionare poche quelle principali in cui in questo periodo lo sto utilizzando tra queste sicuramente troviamo gli appunti quindi note sia dell'università degli appunti delle lezioni sia dei libri che leggo la gestione del blog lo faccio tutto interamente da un file org ed è estremamente comodo quando magari devo correggere che ho fatto un errore quando voglio cambiare qualcosa che ho scritto lo faccio subito perché ho un controllo totale con file org quando devo generare delle presentazioni come questa per esempio io faccio dei video su htbox che è una piattaforma che permette diciamo sviluppare le proprie abilità di pentesting quando faccio le macchine è importante una cosa del pentesting fondamentale è di raccogliere informazioni sulla macchina che si sta cercando di attaccare e quindi avere un sistema per prendere appunti per ricordarsi l'output del server e via dicendo utilizzo sempre org mode e anche per gestire i miei video su youtube utilizzo org mode che ovviamente però vorrò ottimizzare nel futuro quindi come knowledge base io essenzialmente per ogni materia che studio ho un file org che praticamente mi mantiene una specie di indice di tutte le lezioni per quella materia quindi questi sono un po' di esempi di file org per le varie materie tipo agt aos quindi ogni materia un file org e quindi ho questo file org principale relativo alla materia tipo analisi di reti che contiene una specie di overview generale della materia quindi tutte le lezioni eccetera e poi però se io clicco su quel file mi apre il file specifico di quella lezione che contiene tutti gli appunti di quella lezione tipo qua ho ar18 che è la diciottesima lezione se io clicco su questa cosa diciamo blu è un link che mi apre quest'altro file e quest'altro file contiene effettivamente gli appunti della lezione cioè dal vivo questo funziona che io con in questo modo accedo al file org principale e poi da qui magari posso dire ok vammi in 18 ci ho cliccato e lui mi apre il diciamo gli appunti di questa lezione e io qui posso qui posso mettere dell'atec ovviamente posso magari dire ok se voglio ripassare una cosa me la vado a vedere e via dicendo quindi questo è estremamente utile ma la cosa ancora più utile è che se poi io però voglio condividere questi appunti con qualcun altro con una persona che magari non utilizza emax e quindi non è in grado di leggere in modo veloce questo file org io che posso fare lo posso esportare io utilizzo questo pacchetto hox twbs metterò il link in descrizione bene questo pacchetto che fa praticamente mi fa diventare questo file org io lo posso esportare e questo file mi diventa a questo punto questo file lecture notes 18 mi diventa questo file html in cui le formule vengono processate con una libreria di latex per html matjax e quindi ho tutto quello che io quindi posso studiare da questi appunti è quello che magari sto facendo questi giorni per un esame io studio da questi appunti poi magari se trovo qualche errore vado nel file org lo cambio e lo modifico e quindi tipo che ne so il titolo sistema di voto 2 se qua voglio mettere questo qui ho modificato un pochino esporto per l'esportazione premo ctrl c ctrl e h e no ctrl c ctrl e w h diciamo è un keybine un po' del cavolo però poi uno ci si abitua e quindi faccio questa cosa e quindi questo è un esempio di un utilizzo dopodiché un altro utilizzo molto molto importante di org mode è per gli appunti dei libri cioè io durante la lettura ogni tanto mi segno dei paragrafi dei pezzi delle citazioni dei riferimenti che mi hanno colpito anche per ricordarmi ciò che leggo e per poi magari se ci devo scrivere qualcosa per avere dei riferimenti io questi me li scrivo tutti in un file org devo ammettere che non ho ancora ottimizzato al meglio il modo in cui io prendo gli appunti dei libri però adesso perlomeno ho una specie di database in questi file org in cui mi segno tutte le cose fondamentali che leggo per esempio qui ho messo qualche libro non sono tutti questo non è il file tipo che ne so stavo a leggere google esher back e qui c'ho per esempio per i vari capitoli ho tutte magari le varie note per esempio che ne so i problemi di incoerenza del sistema ci metto la data il timestamp la pagina e gli appunti del libro dimostrazione derivazioni la derivazione una descrizione specifica e via dicendo quindi le cose che magari mi voglio ricordare per esempio se questo è un uomo di primo levi per ogni capitolo c'ho magari dei paragrafi che mi hanno colpito e tra l'altro ho pure un post sul mio blog per chi fosse interessato in cui l'ho scritti tipo algoritmo sul live value quindi ho magari la data in cui l'ho letto l'ho iniziato l'ho finito gli autori un po' di metadati ripeto ad esempio qui non ho utilizzato le properties perché magari un giorno utilizzerò le properties per ottimizzarlo meglio adesso è soltanto un work in progress in cui ho magari il capitolo del caching queste cose mi ricordo ok questa cosa sembra interessante e vi dicendo quindi è un modo per avere una specie di database molto efficiente di ciò che leggo così che me lo ricordo dopodiché continuando allora il mio blog viene interamente gestito nuovamente con un file org questa volta utilizzando il pacchetto oxyugo tutti questi pacchetti li metterò in descrizione questi pacchetti sono solo degli esempi perché ce ne sono un sacco quelli che utilizzo sono veramente pochi però per esempio in questo file che posso aprire direttamente qui io praticamente blog content io praticamente che ho per ogni mio diciamo blog per ogni mio blog post ho una entry in questo file tipo auto manage email suite emax nuovamente c'è la solita struttura gerarchica questa struttura ad albero in cui ho i post la headline con i post che contiene tutti i vari post tipo clicco qui poi c'è ovviamente la parte relativa alla struttura di questo post quindi se io voglio cambiare metti caso io faccio partire ugo perché io utilizzo ugo blog ugo server d per dire fammi partire l'istanza locale di ugo io faccio partire ugo dico ok dammi tutti i posti in x tipo che so auto manage email questo qui magari trovo che ho fatto un errore che faccio apro il mio file diciamo il mio file org modifico such as lo tolgo così e such as l'ho tolto certo ovviamente non ha senso toglierlo però è per far capire che se io noto che magari c'è qualche errore nel mio blog per editarlo semplicemente faccio apro questo file lo edito premo lo salvo e poi pusho tutto sul server e questo è estremamente utile quindi tutti i miei pari tapp delle macchine di hack the box cioè mi permette di capire subito cosa devo cambiare tipo le esportazioni dei comandi e via dicendo ed è molto molto veloce e quindi è super super comodo gestire un blog attraverso diciamo questo tipo di questo modo attraverso questo modo dove le presentazioni come ho già detto la presentazione che scrivo tutte in file.org e le esporto tramite il pacchetto hox reveal youtube come gestisco questi video ancora non ho finalizzato il modo in cui gestisco la creazione e la gestione dei dati di questo video ma la mia idea è quella di utilizzare org.mod appunto e quindi mi sono fatto un file.org questo ovviamente ancora ripeto non è ottimizzato alla fine ma più o meno è un work in progress in cui magari ho queste varie headline che rappresentano le serie che vorrei portare tipo emacs e qui ho praticamente per ogni video ho l'entry che magari mi descrive l'idea la proprietà del tipo quando ho rilasciato il video qualche titolo qualche cosa le descrizioni e via dicendo e poi se voglio cliccare magari sulla presentazione per quel particolare video qua ci sono dei link clicco e lui mi apre il link in cui ho la presentazione così magari se ho fatto qualche errore lo posso cambiare via dicendo tipo questa è org.mod è la prima introduzione org.mod ed è questa la presentazione che sto facendo vedere quindi è molto molto comodo gestirsi tutto tramite un file org Hack the Box quindi Hack the Box appunto è la piattaforma su cui ho dei altri video nel canale come mi segno gli appunti bene su Hack the Box ho sempre due file in particolare uno generale una specie di indice globale di tutte le macchine che ho fatto e magari dei comandi più interessanti da ricordarsi e via dicendo una specie di base di conoscenza riguardante però il pen testing quindi specifico del pen testing tipo queste sono le macchine che ho fatto e che voglio magari portare anche nel canale dopodiché per ogni macchina ho un file specifico che mi descrive tutte le informazioni di quella macchina tipo per Bashed la prima macchina che ho fatto io clicco qui e ho il file specifico che mi dice per esempio il video sul mio canale su cui ho fatto questa macchina varie informazioni sulle numeration tipo che cosa mi ha dato l'output il comando npbashed il walkthrough che cosa ho fatto per fare il walkthrough le flags e via dicendo quindi questo è super super utile per gestire sempre tutti gli appunti e come possiamo vedere questa cosa e questo conclude i miei use case personali in tutti i miei use case personali quindi diciamo che vanno dagli appunti vanno dalle presentazioni la gestione del blog gli appunti delle macchine la gestione dei video tutte queste cose alla fine sono dei task in cui io devo ricordare delle nozioni delle informazioni specifiche a determinate entità tipo dei video su youtube delle macchine di actabox degli appunti per l'università e org mode mi dà quella flessibilità e quella semplicità per potermi gestire tutte queste informazioni in modo veloce efficiente e mi permette anche di interfacciarmi con altri programmi perché ad esempio per fare un esempio magari questo lo farò vedere più in dettaglio ora quando io studio appunto ho praticamente due tipi di file ho il file delle lezioni che è il file singolo e ho anche un file generale un indice in cui ho per ogni lezione i vari argomenti toccati in quella lezione così magari se voglio ripassare lo posso fare tranquillamente come genero questo file? bene questo file non lo scrivo io perché sarebbe veramente una palla scriverlo quello che faccio semplicemente è io ho tutte le lezioni salvate sui vari org file questi hanno la loro struttura io quindi ho uno script python che è questo talk generator che utilizza la libreria org parse quello che ho fatto vedere prima per essenzialmente generare a partire dai singoli org files a partire dalle strutture dei singoli org files questo script mi genera questo questo è un altro org file in realtà perché praticamente sarebbe sarebbe questo org file lecture summary mi genera il lecture summary per quella particolare diciamo corso per quel particolare corso tipo analisi di reti questo appunto è fatto in modo tale qui ho il link alla lezione e qui ho tutte le headline di quella lezione tipo 1 0 1 prendete che ho qui questa è la struttura del file org e queste sono tutte le diciamo le varie headline che però gli ho tolto le asterische ho soltanto messo l'headline per dire guarda ho fatto questi argomenti in questa lezione e questo file questo file org l'ho generato con questo python script quindi qua possiamo vedere diciamo questo è il codice questo magari è l'heading eccetera quindi questo che per far capire perché l'ho voluto menzionare è per far capire che la potenza dei file org non è solo all'interno di imax come ho già detto ma è la possibilità di interfacciarsi con questo linguaggio con questa org mod markup language per fare per risolvere i nostri problemi ed è super super potente allora infine per concludere questo video voglio riportare gli elementi principali della org mod markup language questa parte sarà un po' veloce giusto per menzionare velocemente sempre utilizzando questa schermata che secondo me è molto semplice perché fa vedere gli elementi principali quindi introduciamo iniziamo dal nostro file org nuovo quindi new.org ora il titolo magari se vogliamo mettere il titolo facciamo questo hashtag più title e qua mettiamo titolo titolo di prova poi ci sono varie diciamo opzioni tipo author leonardo tamiano e poi queste vengono utilizzate per esempio dall'esportazione cioè se io voglio indicare il titolo di questa pagina html metto il titolo nel relativo file org tipo r5 mi sembra tipo r5 metto qui il titolo e lui quando esporta mi mette il titolo come titolo della pagina cioè se io vado a vedere il sorgente se qui vede il sorgente questo sorgente è stato generato in modo automatico da del codice ELISP e nella nella cosa title ho essenzialmente il titolo che avevo qui quindi questo è molto potente ora la cosa più importante sono gli heading gli heading le headlines e prendi qui posso mettere heading 1 con sempre una soltanto di questi asterischi se però voglio avere il secondo livello faccio due asterischi heading 2 e qui posso scrivere poi posso avere più ovviamente tipo heading 2.1 questo è 2.2 e quindi qua sotto posso scrivere altre cose e poi una volta che magari voglio chiudere questo faccio tab tab e chiudo le due cose e quindi questi sono gli heading posso creare strutture estremamente nidificate perché posso fare heading 3.1 heading 4.1 heading 5.1 insomma posso continuare heading 6.1 e via dicendo e qui posso magari mettere tutte cose posso mettere tutte cose e poi le posso nascondere e via dicendo tutto dentro uno dopodiché se altre cose ora tipo queste altre cose sono più per per esempio se io voglio fare il bold come faccio asterisco metto delle parole e poi un altro asterisco e questo si è trasformato in bold e quando magari lo esporto l'esportazione diciamo avrà questo bold quindi al posto di scrivere questi asteriski metterà che ne so in html metterà i caratteri b per fare il bold in altri linguaggi in latex metterà un'altra cosa e via dicendo questo vale anche per l'italic italic oppure per underline underline questi caratteri sono speciali che io li visualizzo ma poi non vengono esportati quindi sono di markup appunto per esempio i link i link sono interessanti perché come faccio a mettere un link io il link ha questa struttura o metto il link diciamo proprio così metto questo link in questo modo normale ma se invece voglio se invece un link molto molto grande lo voglio nascondere con un'altra descrizione io che posso fare posso aprire le quadre quindi apro quadra però apro praticamente ho due quadri dentro una quadra quindi ho la quadra esterna che contiene due quadri interne dove le due quadri interne la prima quadra interna conterrà il link la seconda quadra interna conterrà la descrizione del link quindi in questo caso io nella prima quadra interna ci metto tutto questo link qui nella seconda ci metterò una descrizione tipo prova e lui automaticamente mi nasconde il link e mi mette soltanto la descrizione se poi lo voglio editare faccio backspace torno indietro cancello il coso è quindi lui mi permette di diciamo farlo e se io clicco lui mi aprirà il link che in questo caso è quel blog di Carl Voigt e quindi è super diciamo tranquillo dopodiché se voglio fare le liste ad esempio semplicemente faccio col trattino metto trattino e tipo faccio item 1 poi vado a capo faccio trattino e faccio tab lui mi dice ok ma lo vuoi un oggetto dello stesso livello o vuoi una sottolista se sono diciamo con lo stesso tab cioè che hanno la stessa distanza dalla linea più a sinistra allora sono oggetti della stessa lista sono item diversi della stessa lista ma posso avere anche sottoliste quindi item che so 1.1 fanno 1.2 1.3 item 1.3.1 item 1.3.2 e via dicendo e poi ci sono tutta un'altra serie di ovviamente di gestione di micromanagement delle liste e ovviamente posso pure un'altra cosa molto molto utile è quello che avevamo detto è per esempio se ho un task faccio to do prima scrivo to do e poi scrivo il nome del task tipo che ne so prendere fare benzina fare benzina dopodiché se voglio mettere una data posso fare ctrl c ctrl s e qua mi apre un mini buffer io mi posso muovere con praticamente shift tenendo premuto shift mi muovo con le freccette e quindi tipo ho questo scheduled e quando dopo di quando ho fatto il task però come faccio a spostarlo quando ho fatto il task posso premere alt e anzi non alt premo shift premo shift e spostandomi a destra o a sinistra con le freccette quindi freccetta a destra freccetta a sinistra io sposto il to do dal to do al don poi dal don al nulla e dal nulla al to do quindi è ciclico ho tre stati questi stati in realtà li posso cambiare cioè posso avere diciamo task che possono richiedere più stati questo è il più semplice to do don binario o niente o to do o don e quindi facendo shift freccetta magari a sinistra a freccetta a destra o freccetta a sinistra per tornare indietro quindi c'è il ciclo fa in in to do poi don poi nulla to do don nulla se voglio tornare dall'altra parte don to do nulla e via dicendo poi posso mettere delle priorità e questo faccio shift in alto e in basso quindi priorità A è la priorità massima priorità B priorità C e via dicendo anche le priorità possono essere anche i livelli di priorità possono essere modificati ora non ricordo in particolare che cosa fanno le priorità ma presumo nell'org agenda quando uno apre il buffer org agenda e si vede tutti i suoi appuntamenti sicuramente diciamo quando c'è una priorità un evento a priorità massima viene visualizzato prima se vogliamo però non sono proprio sicuro poi possiamo avere per esempio degli item cioè possiamo avere un task che necessita di più step step 1 step 2 quando l'abbiamo fatto qua mettiamo un x per dire ok questo step l'ho fatto ma lo step 3 mi manca ovviamente le liste possono essere ordinate cioè con i numeri oppure no e se voglio cambiare la struttura della lista posso fare shift e sempre con le freccette sinistra a destra posso modificare il tipo di lista insomma questo era per dare veramente un overview molto molto veloce delle potenzialità offerte da Orgmod ma non voglio andare troppo a lungo perché secondo me uno di queste cose si deve un po' vedere da solo anche perché sono tante magari poi potrò fare un video su come scrivere di shortcut magari per scrivere meglio cose del genere in caso lasciatemi del feedback e per finire qualche riferimento sono veramente pochi perché nel sito ufficiale e in particolare in questo link che l'ho ripreso dal sito ufficiale sono presenti tanti riferimenti c'è una lista molto molto estensiva di riferimenti sono tutti in inglese ovviamente però diciamo ovviamente di contenuto italiano di Orgmod ce n'è veramente poco e quindi spero che questo almeno abbia portato un po' questa discussione che prima c'era o c'era poco non lo so e per far vedere la potenzialità di questo software cioè secondo me veramente Orgmod ha la vera potenzialità di cambiare la vita di cambiare il modo in cui si organizza tra l'altro non ho menzionato il fatto che io utilizzo un'applicazione per cellulare io ho ios e utilizzo borg poi farò anche magari un video su come la utilizzo perché è molto utile e Orgmod borg permette di editare file org all'interno però del cellulare quindi il fatto che i file org sono dei semplici file di testo permette ad esempio a una persona di implementare borg un'applicazione per cellulare c'è anche per android ce ne sono varie per android e quindi io dal cellulare posso magari modificare dei file org che poi mi ritrovo una volta che sto sul desktop tramite la sincronizzazione e questo è tremendamente utile veramente veramente utile e in generale ripeto gli use case di Orgmod sono infiniti questi sono stati quello che ho menzionato qui è stato veramente diciamo le briciole rispetto a quello che è veramente la potenza di Orgmod però spero che sia stato almeno chiaro che abbia fatto capire le potenzialità come io le utilizzo e ovviamente spero che sia stato divertente se avete diciamo del feedback se volete saperne di più fatelo pure sapere e sarò lieto di rispondervi di rispondervi